Grazie a tutti. Siamo nella classe 1150. 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 Siamo nella classe 1250. Siamo nella classe 1150. Siamo nella classe 1150. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci siamo divertiti, abbiamo passato un'altra giornata tutti quanti insieme Cazzate ne abbiamo fatto sul percorso Tante, tante Siamo qui per questo Ciao a te, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti